Buongiorno, mi chiamo Leonardo Ficcini, socio del progetto Water Clima LAC e intervinto da parte di comunicazione. Voglio fare di moderare la prima sessione dell'inizio scolamento di Sierre di intercambio di esperienze del progetto Water Clima LAC, questione Costellas. Il progetto Water Clima LAC di zona Costellas ha avvenuto come obiettivo infusare la collaborazione conjunta, la visione che è partita e la coordinazione per implementare il modello di protezione del territorio Costello adaptato ai 여기огoli del campo del mar, De tal modo che contribuiscono al crescimento economico, eficiente, inclusivo e sostenibile. Se implementa in 400 piloti. In La Paz, Bahia California, México. In la regione hidrograta del sud di Haiti. In Bahia Lenpa, in El Salvador, il Mar del Valle, in Argentina. Queremos comenzar con la reflexión en toda la disponibilidad de calidad de agua, es decir, la prioridad para la sociedad del ambiente ante el cambio climático. La efectiva adaptación de los países de cambio climático debe de refletir la importancia de gestión del agua, reduciendo la supervivenibilidad y construyendo residencia climática. A continuación, invitamos al señor Mario Piedra, a su territorio general de Haitia, a quien nos dirige a su parte. Gracias. Gracias.